Suorenza, oggi l'Istituto Suor Teresa Valse di Macchitella ospita un importante seminario e voi in virtù dell'accoglienza date vita anche a questi eventi. Sì, sì, la nostra casa, mi piace dirlo e ripeterlo, è sempre aperta e laddove è possibile diamo ospitalità e facciamo sentire a casa, perché questo è e vuole essere il nostro stile. Poi con questo gruppo noi partecipiamo perché sono stati realizzati i progetti sia alla scuola primaria che alla scuola dell'infanzia e tutto questo naturalmente ha dato qualità anche al nostro POFA, alla nostra offerta formativa e di questo ringraziamo tutti coloro che naturalmente ci danno la possibilità di interagire e di collaborare. I punti di forza di questo incontro di oggi consistono nel provare ad orientare l'attività dei nostri operatori verso livelli metodologici più avanzati. Il Ministero della Salute suggerisce alla regione siciliana già da qualche anno di adottare una modalità di progettazione delle attività di prevenzione che sia diversa e che sia metodologicamente più avanzata. Questo modello di progettazione si chiama PCM, Project Cycle Management, ed è stato già utilizzato in molte regioni d'Italia, in particolare in Veneto. La regione Sicilia sta partendo con un po' di ritardo, però adesso questa progettazione diventa di fatto obbligatoria per tutti i nostri operatori sanitari. In questa scuola noi abbiamo fatto due progetti che riguardano la sicurezza negli ambienti di vita, uno nella scuola primaria chiamato Progetto Giochi Sicuri e l'altro nella scuola dell'infanzia chiamato Sicurezza Domestica. È importante che anche questi progetti vengano adeguati secondo questo nuovo modo di interpretare quello che è il modo di operare in sanità pubblica.